Benvenuto a Michele Scirocco, candidato sindaco a Formicola e sindaco uscente naturalmente. Stasera oggi parleremo con lui per capire un po' di più sui programmi elettorali. Intanto lei è sindaco uscente e poi ha deciso di ricandidarsi, perché? La scelta è stata soprattutto fatta da parte dell'intera compagine, perché io insieme agli altri abbiamo cercato di trovare delle alternative, come è giusto che sia, almeno all'interno del nostro gruppo. Diciamo che all'unanimità il gruppo ha deciso che anche per questa volta dovevo essere io il candidato. Ovviamente il mio obiettivo è quello di far crescere un gruppo di persone che tra cinque anni poi possano veramente prendere in mano il governo e l'amministrazione di questo nostro bel paese. Presidente, una domanda sulla prossima esperienza comunale. Che cosa ne pensano di accorpare i comuni, la sinergia, visto che le risorse economiche sono... Io da sempre sono stato favorevole a questo tipo di accorpamento, il problema è che se non si riescono a superare i tanti campanilismi non si riuscirà mai. Io credo che sia necessario un provvedimento di legge che porti a questi accorpamenti, a queste fusioni, perché come possiamo tutti immaginare è difficile che un comune rinunci a qualcosa a favore di altri e così via. Sindaco, da chi è costituita la sua lista, diciamo in termini di professionalità? Sì, la mia lista è costituita da sette consiglieri o assessori uscenti più tre nuovi inserimenti. All'interno della lista ci sono impiegati, ci sono insegnanti, ci sono persone che vengono dalle esperienze più varie. È una lista molto composita che sicuramente può fare tanto per questo Paese, una lista fatta da persone accomunate dal solo obiettivo di portare avanti quelle che sono le nostre idee e nello stesso tempo realizzare tutto ciò che di buono è possibile fare per questo Paese. Diciamo continuare il discorso già intrapreso che come possiamo vedere in giro per il Paese i suoi frutti li ha dati e li sta cominciando a dare. Sindaco, c'è un progetto che voleva realizzare, era convinto di poter realizzare a termini della consigliatura e invece non è riuscito? Noi tra i tanti filoni di lavori e di progetti a cui ci siamo dedicati, voglio ricordare quello che riguarda il distesso idrogeologico, quello che riguarda le attività produttive, le attività sportive, noi c'eravamo prefissi di completare tutti i progetti relativi all'edilizia scolastica. In parte ci siamo arrivati, l'abbiamo fatto, abbiamo un asilo nido, siamo tra i pochi comuni da 1500 abitanti che hanno un asilo nido autorizzato per 35 posti e abbiamo una scuola materna, una scuola dell'infanzia costruita con tutte le tecniche più moderne, una palestra autorizzata dal CONI eccetera. L'unica cosa che non siamo ancora riusciti a fare, ma la stanno facendo in queste settimane, l'abbattimento e ricostruzione del plesso principale della scuola. Oltre a questo nel programma abbiamo inserito altre opere che sono già cantierabili e una serie di piccole opere che comunque possiamo tranquillamente fare come l'allargamento della piazza Cavallari che darà sicuramente ampi spazi di parcheggio, ulteriori spazi di parcheggio e restituirà un po' di vivibilità a questa nostra borgata. Sindaco, un'iniziativa in modo molto sintetico che farà e eventualmente verrà eletto subito dopo la sua elezione e che tiene particolarmente? Noi abbiamo in cantiere parecchie attività, io ci tengo a continuare ma nello stesso tempo a inserire attività relative all'aggregazione perché noi abbiamo tra le opere che abbiamo quasi completato in questi anni c'è anche l'auditorium, l'auditorium deve diventare assolutamente un centro di aggregazione per persone di varie età, sia per i bambini, sia per eventualmente persone anziane, sia per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e così via e ovviamente deve dare un grosso impulso alla promozione della musica a formicola perché la musica è stata sempre un punto di forza ed è stata sempre la passione di tantissimi formicolani. Questo auditorium assieme anche ad altre strutture che noi già abbiamo può andare nella direzione della promozione di attività aggregativa insomma che è quello che dopo il Covid è un poco venuto meno, è un poco mancato insomma dopo il Covid. Bene il nostro incontro politico per le elezioni comunali dell'8 giugno prossimo termina qui, grazie al nostro ospite e alla prossima sigla.